Nuovi arredi per lo spazio esterno del Cortile Grande della Biblioteca Passere Nilandi di Piacenza. L'acquisto è stato reso possibile grazie al contributo congiunto di Unione Commercianti e Confesercenti. Quando il Comune ci ha chiesto se potevamo partecipare e contribuire ad arredare questo luogo, da subito la nostra Giunta si è espressa in modo positivo perché ha pensato a questi luoghi, spesso anche non considerati e che devono essere comunque tenuti, sempre mantenuti per essere presidiati dalla città. La fornitura prevede 70 sedie e 16 tavoli che consentiranno agli utenti di usufruire nella bella stagione del Cortile Interno, recuperato nel 2011 attraverso una rivisitazione della forma e del disegno originario che rievoca nei decori della pavimentazione le geometrie del Giardino All'Italiana. Insieme all'Unione abbiamo voluto partecipare a questo bando perché avere una biblioteca che funzioni e questa funziona molto bene, dà la possibilità di avere anche questi colori vivaci che mi hanno colpito molto, li ho visti oggi per la prima volta e sono molto belli, rende più vivibile, più attrazione per chi la deve sfruttare. E quindi abbiamo voluto dare un segnale dove i commercianti, le piccole e medie imprese sono vicine alle necessità della città e dei loro cittadini.